Salve a tutti siamo qui con un nuovo video ed in questo video continueremo la serie sulla mod della vita reale nello scorso episodio Siamo andati in motocross ci siamo divertiti un sacco abbiamo fatto una gara che se non sbaglio siamo arrivati secondi Comunque sia guardate che cosa sto indossando la maglietta ufficiale di Super Gashbel che trovate in descrizione se volete comprare anche voi Comunque sia quello che faremo oggi ragazzi beh innanzitutto abbiamo un mega annuncio da fare cioè che Sara è incinta Ragazzi è il quinto mese e direi che la possiamo andare a trovare oggi Ah nello scorso episodio non l'abbiamo fatta vedere e non volevamo spoilerare la notizia ecco perché Comunque sia sono già passati 5 mesi da quando è successo infatti ora la pancia inizia davvero a farsi vedere Non sappiamo ancora se è un maschio o una femmina però direi che saltiamo sul nostro veicolo che il meccanico ci ha appena portati Vediamo se ok grazie vedete che il meccanico è cambiato l'ultima volta non so se vi ricordate ma l'abbiamo dovuto licenziare Perché ci ha distrutto la parte posteriore del Range Rover di Sara e quindi l'abbiamo licenziato sul posto Questo qua è un nuovo meccanico che si spera mi pare che l'auto sia a posto quindi grazie di avermela consegnata Allora quello che mi piacerebbe fare con voi oggi però è sicuramente andare a trovare Sara Per ora dobbiamo ancora aspettare un po' di mesi prima che partorisca però possiamo sicuramente andarle a fare un po' di compagnia La notizia ragazzi è arrivata come un fulmine non me l'aspettavo proprio è arrivata come un fulmine a ciel sereno Direi che non ci dispiace come notizia affatto perché siamo pronti ad accogliere un bambino nella nostra famiglia Il problema solamente poteva essere se avevamo problemi economici oppure di qualche altro tipo ad esempio relazionali Però Sara per ora direi che è un'ottima ragazza che sicuramente ci potrà tenere compagnia per un sacco di tempo E quindi secondo me è la scelta giusta Quindi nonostante la notizia sia arrivata all'improvviso direi che siamo felici lo stesso Intanto non abbiamo una stanza per il bambino ragazzi quindi non so bene come ce la caveremo in questo caso Finché rimane piccolo naturalmente non è un problema perché possiamo semplicemente posizionare una culla nella nostra camera da letto che è davvero enorme Però probabilmente più avanti dovremmo ampliare di una stanza oppure comprare una nuova casa Lo so che sembra assurdo perché la nostra casa è enorme però non c'è effettivamente una stanza dedicata al nostro bambino Anche se nonostante questo potremmo comunque trasformare il mio studio che si trova di sotto in una stanza per un bambino Con tutto quello che gli serve e naturalmente potremmo farlo Dovrò dedicare una stanza mia al bambino ma per quello non credo che ci siano problemi Quindi detto ciò andiamo a casa andiamo a vedere Sara Anzi la prima cosa che vorrei fare abbiamo un po' di cose da fare Con voi oggi vorrei oltre a vedere Sara e tutto vorrei andare in palestra Vorrei anche lavare l'auto che adesso sembra piuttosto pulita probabilmente l'ha già fatto il meccanico Però magari vorrei darle una lavata più approfondita E inoltre vorrei anche mangiare andare a mangiare un tacos Adesso siamo di fronte a casa nostra Se vogliamo possiamo andare a vedere Sara direttamente Però ok andiamola a vedere prima di tutto E poi dopo possiamo pensare a fare le altre cose Perché tanto ormai si tratta solamente di attesa Dobbiamo ovviamente aiutare Sara durante la gravidanza perché non è una cosa facile da fare Comunque sia dobbiamo semplicemente aspettare che lei sia al nono mese poi E magari che partorisca e deve fare tutto ciò che è necessario per far nascere un figlio in salute Quindi ragazzi aspettate che tolgo la radio Andiamo a vedere dove Sara teoricamente adesso Forse in camera da letto andiamo a vedere Ok eccoci ragazzi guardate Quinto mese Guardate che pancetta che ha Incredibile Bellissimo Siamo entrambi contentissimi di questa notizia Allora come potete vedere questa stanza è piuttosto grande Quindi sicuramente una culla qua al centro dove lei adesso possiamo sicuramente metterla Poi vediamo Abbiamo anche non lo so qua il bagno Vediamo che altre stanze abbiamo che possono servire Come stanza del bambino quando nascerà Finché non ha secondo me Due anni Un anno e qualcosa Forse due anni possiamo anche lasciarlo vicino alla nostra camera da letto Uh ok Qua mi sa che c'è spazio Qua dato che diventerò papà Mi sa che mi conviene togliere tutta questa roba che serviva per le armi e altre cose del genere Vedete E cassette degli attrezzi Robbe simili E trasformare questa stanza in una stanza per il bambino Possiamo lasciare anche questa scrivania Ovviamente magari togliamo i pc e tutta questa roba qua Però comunque sia questa potrebbe essere una stanza buona per il nostro scopo È ovvio che è un po' difficile È un po' lontana dalla nostra È un po' difficile arrivarci ogni volta che piange o altre cose del genere Però comunque sia sempre meglio che averlo qua Ovviamente per sempre Perché a tre anni poi non possiamo più lasciarlo qui Quindi ragazzi Direi che adesso abbiamo visto Sara Lasciamola qua tranquilla a casa E andiamo in palestra a fare tutto quello che ci mandava di fare oggi Quindi Saliamo di nuovo su Torniamo in garage Andiamo a prendere la R8 Allora allenamento per oggi Intanto che ora è? Sono già le 16.45 Quindi facciamo un allenamento serale Non abbiamo tantissimo tempo Però usciamo dall'appartamento Anzi entriamo nel garage Ok Ah a quanto pare Sara ci vuole seguire? Perché ci sta seguendo? Non ne ho idea Vabbè comunque Direi che allora andiamo a mangiare un taco insieme Dato che vuole venire anche lei Quindi facciamola salire su Ottimo Quindi usciamo dal garage Intanto super non l'avete visto Ma probabilmente perché era a cuccia Tranquillo a cuccia E non si è fatto neanche sentire Allora cosa facciamo io e Sara intanto? Possiamo andare sicuramente a mangiare un taco insieme? Andiamo a lavare l'auto innanzitutto Perché non è proprio questo bisogno Però ogni tanto va fatto Soprattutto gli interni che iniziano ad essere un po' sporchi Quindi La prima cosa che facciamo Lavare l'auto Seconda andiamo a mangiare un taco insieme a Sara Poi non so se Sara vuole venire con me in palestra Dato che è all'aperto Sarebbe lì ferma un sacco di tempo inutilmente Quindi secondo me sarebbe meglio riportarla a casa E poi andare in palestra È un po' inutile che sia venuta Ma dato che voleva assolutamente fare due passi Direi che non c'è nessun problema a portarla con noi Finché lei è felice Siamo felici anche noi Adesso mancano ancora due chilometri Aspettiamo E poi quando siamo là Vediamo quanto costa lavare l'auto Ok ragazzi Eccoci qua all'autolavaggio Adesso non mi ricordo bene dov'è l'entrata Ma teoricamente dovrebbe essere questa Ci siamo già venuti una volta con Non mi ricordo adesso con che veicolo Però era troppo alto per entrare Ah con il camper Ed era troppo alto per entrare Quindi non siamo passati Uh guardate qua che pozze schifose Che ci sono quasi quasi Sporchiamo più l'auto a passare su queste pozze Che poi quello che effettivamente è già sporca Quindi Allora 15 dollari per l'autolavaggio Entriamo dentro Laviamo l'auto Nonostante di fuori Sembra già molto pulita Quindi non so quanto bisogno effettivamente ci fosse Però l'interno Probabilmente è piuttosto sporca Però sicuramente non gli fa mai male un'altra lavata Soprattutto per una macchina Diciamo Così preziosa Ha sicuramente bisogno di essere lavata Periodicamente Perfetto Guardate come ci sta bene la targa con scritto super È incredibile Benissimo Quindi abbiamo finito Speriamo adesso che non ci siano altre pozze Che possano sporcare il veicolo Eccola Neanche finito di dire Proprio fuori dall'autolavaggio Comunque andiamo a sinistra Uh ok Andiamo piano qua Perché così il fango non ci sale Sulla carrozzeria Perfetto Quindi 15 dollari Sono andati così Allora adesso Taco Vediamo dove possiamo mangiare un taco Sicuramente so che ci sono dei camioncini Dei tacos che girano in giro qua Da qualche parte Ah non dovrebbe Non ne vedo neanche uno qui Per il momento Vediamo se posso Se andiamo ancora un po' più avanti Oppure magari verso la nostra zona Magari ce n'è qualcuno Perché qua Non so Sono in un quartiere Che non mi è proprio familiare Uh brutto incidente quest'auto Davvero un brutto incidente Non so come fa ad andare ancora avanti E non l'hanno portata via con il carro attrezzi Però si vede che alcune persone non possono Con giallo meglio non passare Uh non possono permettersi di Magari aggiustarla Oppure di farsi venire a prendere con il carro attrezzi Soprattutto in queste zone Perché non so se avete notato Ma le auto che si trovano dove viviamo noi Sono molto migliori Ci sono tantissimi Range Rover Audi Q7 Non lo so tantissime auto sportive e di lusso Invece qua ci sono più auto vecchie come questa qui Oppure auto incidentate come quella che avete visto prima Ovviamente c'è qualche auto bella Quella lì cos'è mi pare una BMW Allora adesso cerchiamo un camioncino dei Tacos Anche se in realtà sarebbe lui che dovrebbe venire da noi Però vediamo se ne troviamo uno da qualche parte Ancora niente però guardate qua non ci posso credere Guardate gli schizzi di sporco Che si sono già formati su quest'auto È incredibile Si vede che le strade oggi non sono molto pulite Forse perché non ha piovuto da un po' di tempo Ah però comunque sia Diamine si è già sporcata Quindi alla fine 15 euro inutili Quasi quasi lo faccio fare dal mio meccanico Che tanto lo pago comunque 100 euro Che cos'è al giorno Quindi direi che potrebbe fare anche questo Ora continuiamo la nostra ricerca verso un camioncino dei Tacos Anche se effettivamente non so dove trovarlo Però lo troveremo lo troveremo Esperavo fosse lui ma è solamente un camioncino della posta Diamine Ok l'ho trovato è lui È lui no non è lui Ok ragazzi purtroppo non l'abbiamo trovato Ok la polizia ci sta dando dentro Comunque sia non abbiamo trovato ancora in tutto questo tempo Un camioncino dei Tacos Quindi l'unica cosa che ormai ci toccherà fare Andare da Burger Shot Lo so che è un'alternativa piuttosto schifosa Però non abbiamo molta scelta Soprattutto perché la fame si fa sentire Quindi parcheggiamoci qua Guardate il veicolo Non l'ho neanche mai visto così sporco E in questo momento lo è Quindi scendiamo Piano perché guardate qua incredibile Comunque vieni con me O non vuoi andare da Burger Shot Perché se no se vuoi andiamo da qualche altra parte Dato che si è un posto piuttosto squallido Non è neanche tanto salutare Non so poi scegli tu Se no mangio solo io Tu magari ti mangi un'insalata O qualcosa del genere Quindi non lo so Io entro comunque Dato che la fame come vedete è gialla adesso Mangiamo qualcosa 5 dollari a me 5 dollari a Sara E siamo a posto Ottimo quindi Torniamo sul veicolo Uh sono entrato dalla parte sbagliata Però vabbè Abbiamo mangiato così almeno il divertimento E la fame sono tornati a livelli accettabili Adesso torniamo a casa Lasciamo Sara lì Ormai ci penseremo domani mattina Dovrebbe essere piuttosto tardi Penso che siano le 23 O qualcosa del genere Aspettate che metto la freccia a destra Se no non mi fanno passare mai Ok forse adesso Quindi torniamo a casa Domani mattina andiamo subito in palestra Per ora oggi andiamo a letto Perché siamo stanchi Sara è stanca E quindi Non c'è nulla da fare Benissimo eccoci qua Torniamo in parcheggio Guardate Guardate quanto è sporca Praticamente lavarla è stato peggio Probabilmente perché prima avevamo la cera E adesso invece il veicolo L'abbiamo lavato Abbiamo tolto quella E quindi si sporca molto più facilmente Non lo so Comunque sia Torniamo su Non so perché Sara non è entrata nell'ascensore Vieni dentro Ok perfetto ragazzi Siamo dentro Finalmente siamo venuti su Quindi adesso andiamo a letto Dato che il sonno è anche verde Andiamo a dormire Domani mattina ci penseremo Domani mattina Anzi ci svegliamo presto E andiamo in palestra E poi così facciamo un po' di allenamento Che è un bel po' che non lo facciamo Nonostante abbiamo fatto un sacco di attività Che sono praticamente equivalenti a quello Ma per ora niente Ci vediamo domani mattina Eccoci qua ragazzi Sono le 6 e 40 della mattina Adesso Sara dovrebbe essere già sveglia Perché in questo ultimo periodo Mi pare che non dorma moltissimo Ora non so quale sia il problema Se voi sapete qualcosa di più Magari me lo potete Eh infatti è ancora lì Ah comunque sia Detto ciò direi che cosa facciamo Quindi ci vediamo dopo Sara Io vado in palestra Entriamo nel garage Allora intanto la palestra che scegliamo Ovviamente anzi andiamo in moto Andiamo in moto che è tantissimo Che non la usiamo la Bati Andiamo in moto così ci divertiamo ancora di più Perfetto quindi la nostra palestra di riferimento È quella che si trova sulla spiaggia di Los Santos Si chiama Venice Beach E non mi ricordo che cosa dovrebbe essere Attorno a queste zone qua Ora non ho ben presente Oh eccola qua Vedete che c'è il muscolo qui Questa è la palestra Quindi mettiamo il navigatore verso la palestra E andiamoci Quindi questa è la prima cosa che facciamo stamattina Dopo andremo a comprare degli snack per fare colazione Comunque sia per ora Prima facciamo allenamento Un'altra cosa di cui vi volevo parlare ragazzi È quello che dovremo fare più avanti Perché adesso avremo un bambino Quindi sarà una bella responsabilità Ma non è solo quello È che nell'immediato Dovremo andare a comprare delle cose per lui Sicuramente dovremo andare a comprare dei pannolini Poi una culla Un passeggino magari Probabilmente Inoltre dovremo prendere dei vestitini per lui Che comunque dovrebbero regalarci Anche i nostri amici per il nascituro Tutte queste cose che io non sono un esperto E che quindi non ho idea Però dovremo farlo il nono mese Quando starà per nascere Lo faremo insieme ragazzi Un giorno prendiamo Non serve neanche Sara Andiamo noi solamente Perché poi sarà il nono mese Sarà anche difficoltoso E stancante Per lei andare a comprare la roba Quindi facciamo noi Andiamo al supermercato Prendiamo tutto l'essenziale Quello che ci pare essenziale Quindi magari Non so se Omogenizzati Biberon E tutte queste cose Che ora non abbiamo Perché non c'è un bambino Nella nostra famiglia Però Arriverà molto presto Inoltre vorrei anche sapere Se è un maschio o una femmina Perché Questo poi determinerà Quello che dovremo andare a comprare Naturalmente Perché per una femmina Possiamo prendere vestitini rose E altre cose del genere Per un maschio Naturalmente blu E non ci posso credere ragazzi Non piove da tre anni Io esco in moto E piove Ma Ma che cavolo Ok Andiamo più veloci possibile Anche se Non lo so Cioè è davvero incredibile Questa cosa che piove Sempre quando esco in moto Invece quando sono in auto Non piove mai Guardate c'è addirittura La Ferrari lì Che sta mettendo sulla capote Che anche lui Non se l'aspettava Una pioggia improvvisa così Ok ragazzi Fortunatamente ha smesso Piuttosto velocemente È un po' nuvoloso Ancora però Per ora Dovremmo essere a posto Per un po' Si spera La nostra moto è bagnata E noi siamo completamente fradici Però adesso comunque Dobbiamo cambiarci di vestiti Per andare qua Non c'è nessuno Veramente Non c'è nessuno La palestra è tutta per noi Perché ha iniziato a piovere E si vede che se ne sono andati tutti Ha comunque parcheggiato la moto lì Secondo me è un problema Potrebbe essere un problema Andiamo a vedere se c'è un parcheggio Da qualche parte Perché lasciare la moto qua Nonostante per me sia in vista E quindi per quello l'ho parcheggiata Ma magari dà fastidio a qualcuno Quindi vediamo se c'è qualche Parcheggio comodo Ok questi dovrebbero essere dei parcheggi No là è tutto rosso Questo dovrebbe essere un parcheggio Purtroppo la moto mi sa che qua Però non è in vista Quindi Non mi piace tantissimo Perché potrebbero benissimo anche rubarla Soprattutto in una zona del genere Nonostante sia piuttosto trafficata Però Non lo so Lasciamola lì Poi vedremo Magari se qualcuno ci dice Che non va bene La facciamo portare via Lasciamola qua Che non dovrebbe occupare Tantissimo spazio Ingombrare a nessuno Quindi togliamoci il casco Entriamo dentro Vediamo se dobbiamo pagare qualcosa Oppure no Perché mi sembrano Delle macchine piuttosto gratis Oh ok Wow Ok Ok allora ragazzi Ho sentito parlare molto di sto posto Però non c'ero mai venuto Quindi andiamo a vedere alcune cose Ok innanzitutto Rimuoviamoci la maglietta Perfetto Ora siamo molto molto più comodi Proviamo a fare ancora un po' Di questo esercizio qua Ne abbiamo un bel po' Mi sa da provare eh Mi sa che ne abbiamo un bel po' Inoltre abbiamo anche fame Non ci siamo portati degli integratori Nel nulla Però non credo che sia un problema Ah il nostro corpo Comunque siamo abbastanza In forma Ci siamo tenuti piuttosto bene Facciamo ancora un due di queste L'ultima Dai fai l'ultima Facciamo l'ultima Perfetto Ottimo Questo mi ha fatto piuttosto male Però vediamo se ne abbiamo qualcosa di Di diverso Questo qua che cos'è Ah ok Ok alziamo i pesi Quanto sono qua Mi pare che siano 5 kg Quelli inferiori E non so quanti kg quelli interiori A 20 kg Quindi abbiamo 20 40 45 55 kg per parte Ragazzi stiamo alzando 55 kg per parte Questo significa che in totale Stiamo alzando 110 kg Che secondo me È un po' tanto Ma forse non so Con questa muscolatura Ce la stiamo facendo abbastanza bene Ok un po' ce ne abbiamo Quindi forse Forse direi quasi Di aggiungerne un altro Ma per ora Direi che Ok è già complicato di suo Ehm È strano comunque Vedere la palestra tutta per noi Perché veramente Di solito È sempre pieno di gente Ehm Vediamo che cos'altro possiamo fare Questa macchina L'abbiamo appena fatta Questi pesi qua Non possiamo usarli No però probabilmente qua Possiamo fare o yoga Oppure dei push ups Allora vediamo quanti ne riusciamo a fare 1 2 3 4 5 Oh e sono già stanco dopo 5 È incredibile Mi fan già male le mani Non ci credo Ok proviamo a farne qualcuno in più Ok Ok Wow Adesso ci stiamo andando piuttosto velocemente Piuttosto cattivo Vediamo com'è Wow ok Ok Perfetto Direi che ci siamo Ci siamo Wow che cos'è questa roba Schifosa qua che c'è per terra Usciamo un secondo va Che c'era una roba assurda lì Ehm andiamo a fare qualcos'altro Rifacciamo questi Qualcuno di questi Ok Ok ci siamo Intanto qua Comunque sia Questo posto È fatto apposta Per farsi molto vedere Dalla gente che passa Effettivamente Perché guardate Intanto c'è la nostra moto lì Che sta benissimo È bellissima Comunque sia La gente passa E ti vede fare i muscoli così E magari è invidiosa E quindi sicuramente è una pubblicità al posto Ed è una pubblicità a noi stessi Vediamo di rialzare un po' questi pesi qui Quanto riusciamo a fare Adesso non so perché ma non riusciamo neanche a tirare fuori dalla sbarra Probabilmente abbiamo dolori ai muscoli continui Ok no Troppo faticoso Usciamo Troppo faticoso Definitivamente troppo Proviamo qualcos'altro Allora abbiamo fatto i push up Abbiamo fatto questo Abbiamo fatto quest'altra macchina qui Quindi addominali Braccia e tutto quanto Direi che possiamo fare dei sit up Vediamo come sono Ok Vediamo quanti ne riusciamo a fare Teoricamente gli addominali non siamo messi molto male Quindi non ce la dovremmo cavare Un po' faticoso Però ce la facciamo Almeno i primi 5 sono fatti Ok basta 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 Wow ok Ho piuttosto male alla muscolatura adesso Bene quindi ragazzi Direi che ci possiamo rimettere la maglietta di prima Ottimo Perfetto Quindi fatto ciò Torniamo sulla nostra moto Adesso Ah faccio fatica quasi a camminare Non abbiamo fatto gambe Una cosa che in realtà Non so se ne ho molto bisogno Però non abbiamo fatto gambe Di alcun tipo Ma lo faremo magari la prossima volta Quello che andiamo a fare adesso Sicuramente è mangiare di nuovo Vediamo se adesso Riusciamo a trovare un camioncino dei taco Perché prima Non potevamo girare molto Che avevamo Sara con noi E si stava piuttosto stancando Era tardi Oggi invece possiamo andare a cercare Se lo troviamo Wow guardate che auto che passano Quindi Andiamo a cercare un camioncino dei taco Vediamo se ne troviamo uno Così possiamo mangiare qualcosa di delizioso Che sono due giorni che ho voglia di mangiarli Ok ragazzi eccoci qua L'abbiamo trovato finalmente Il camioncino dei taco Se è tantissimo che lo cercavo Ma soprattutto Abbiamo scoperto che ha degli orari specifici Quindi la notte non gira Ecco perché non lo trovevamo stanotte E inoltre Ci siamo dovuti fermare in un supermercato Perché avevamo talmente tanta fame Che stavamo quasi morendo Comunque sia Me lo tolgo questo sfizio Quindi si fermi un secondo signore Voglio un taco Ok grazie mille Allora vediamo che cos'hanno Hanno un taco Una icola E un pnq Quindi praticamente il pnq È quello che abbiamo mangiato noi prima Andando al supermercato Però intanto mangiamoci questo taco Finalmente che Oh la Oh oh Cosa vuole questo Cosa vuole questo Diamine vuoi Wow Gente Polizia Mi serve la polizia No no io salgo in moto E scapo perché non voglio problemi Con questo tipo Non voglio assolutamente problemi Con questo tipo Diamine Non so che cosa diamine gli ho fatto Però ogni volta che devo fare Intanto dove è finito il camioncino dei taco Che volevo anche una coca Non Ah eccolo qua Eccolo qua Adesso però è rosso per noi Intanto è messo piuttosto male Perché si è appena incidentato Contro Un camioncino della posta E non ho capito perché sta viaggiando contro mano Wow Cosa sta facendo Ok non facciamo domani Oh Assurdo Cosa diamine Ok adesso è verde Posso finalmente Signore ma cosa diamine sta facendo Con quel camioncino lì Mettiamoci qua che il traffico Non dovrebbe passare Intanto si fermi un secondo va È impazzito o No ok Forse si ferma Forse no Attacco taco si chiama Attacco taco Fermati Ma ti ho chiesto di fermarti Wow ragazzi Ma che Ha perso l'insegna Non ci credo Non ci credo Ok finalmente si è fermato mi pare Oh benissimo Allora fammi comprare anche unicola E magari pure un altro taco Perché era stra buono E ho una fame Ok Ok no forse No questo non mi è andato tanto bene Comunque grazie Questo qua l'ultimo faceva schifo Però vabbè Quindi adesso lasciamo che risolva questa situazione da sé E andiamo a casa Direi che finiamo qua ragazzi Quindi mettiamo Andiamo a sinistra un secondo Che torniamo verso l'appartamento Quindi ragazzi Direi che ci fermiamo qua Mettiamoci in questo punto Non so perché c'è scritto 38 per terra Che diamine dovevano fare con 38 Comunque ragazzi Grazie ancora della visione Spero che questo episodio vi sia piaciuto Se è così lasciate un like Iscrivetevi Entrate nel gruppo telegram Che è in descrizione In descrizione c'è anche un link Per avere questo gioco scontato E inoltre Vedete questa maglietta Potete comprarla anche voi Io ho la mia La trovate in descrizione Sotto questo video Ricordatevi una cosa Se non ricevete la notifica Del nuovo video Ogni martedì e giovedì alle 15 Mi raccomando C'è un pulsante Che dovete cliccare Sia su mobile Che su web Che sarebbe una piccola Campanellina E con quella potrete ricevere Le notifiche Dei miei video Quindi grazie ancora Arrivederci Ok quindi ci siamo Voglio provare a fare quel salto Vediamo Ok è proprio di fronte a noi E ci siamo Ok bellissimo Ok bellissimo Grazie a tutti Grazie a tutti.